Musica Sabato 10 novembre, buona giornata a tutti da Udineusa TV, la nostra prima ora di diretta assieme con le ultime notizie, la rassegna stampa, le anticipazioni dello sport alla vigilia della sfida importantissima. Tra Empoli e Udinese, le previsioni del meteo, il traffico, quindi tanta informazione per voi. Allora partiamo subito con uno sguardo alle webcam del territorio per vedere come si sta risvegliando il nostro Friuli Venezia Giulia in questa giornata con nebbia, foschia, con le immagini siamo a Barcis, il lago con sullo sfondo le montagne delle prealpi pordenonesi, una fitta nebbia che si staglia sul territorio. E poi passiamo con le altre webcam, un altro sguardo sul nostro Friuli con le immagini che ci arrivano dal centro di Gorizia, una Gorizia che si sta risvegliando piano piano. A proposito di meteo andiamo ad ascoltare ora con Eleonora Nocent le previsioni per la giornata per il fine settimana. Vi ritrovate con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di sabato 10 novembre. Cielo da variabile a nuvoloso con più nubi sulle prealpi e ad est dove sarà possibile qualche locale piovigile, probabili foschie di notte e qualche banco di nebbia. Le temperature sulla costa 13-15 gradi di minima, 16-18 gradi di massima, in pianura 9-12 gradi di minima, 16-18 gradi di massima, a 1000 metri 8 gradi, a 2000 metri 3 gradi. Una rivederci a tutti alle previsioni meteo di domani. Dal meteo ci spostiamo ora sul traffico per vedere la situazione sulla rete autostradale della nostra regione grazie al sito di Info Viaggiando con un quadro che al momento si presenta tranquillo. Con i soliti restringimenti per i lavori della terza corsia, dallo snodo di Palmanova sino a Portogruaro. Attenzione però perché dalla tarda serata di oggi ci sarà una chiusura del tratto tra Palmanova e San Giorgio per permettere il rifacimento dell'asfalto a seguito del maltempo. C'erano stati alcuni disagi e quindi attenzione per chi si dovesse mettere in auto nella tarda serata di oggi. Questa chiusura sarà comunque segnalata sul posto da Autovie Venete. Questa è la situazione dell'A4, tutto tranquillo anche sulla A23 Palmanova Udine-Tarvisio e sulla A28 la Portogruaro-Pordenone-Conegliano. Dal traffico ci spostiamo ora sul web per un aggiornamento di cronaca dagli Stati Uniti perché continua a bruciare la California. Immagini impressionanti e ci sono già purtroppo nove morti a seguito di questi roghi. Quasi 7 mila le case distrutte, oltre 150 mila le persone evacuate, come possiamo leggere appunto dal sito dell'Ansa. Una California dunque devastata dalle fiamme. Andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera a tenere banco oggi le polemiche interne al Movimento 5 Stelle dopo l'avviso alla sindaca di Roma Raggi Di Maio. L'avviso a Raggi, il nostro codice è chiaro, prima cittadina via in caso di condanna. Il PM chiede dieci mesi, la Lega scende in piazza a Torino con i CITAB contro la frenata del Movimento 5 Stelle. Di taglio alto, a proposito di governo c'è il richiamo dell'Eurogruppo sulla manovra, Matria risponde, seguire Bruxelles sarebbe suicida. Il vicepremier Di Maio difende ancora la manovra, ha dichiarato che gli impegni si onorano e che bisogna continuare il dialogo con l'Europa, come auspica anche la Banca d'Italia. E poi c'è l'intervista oggi sul Corriere al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla prescrizione. Lo stop c'è, nessuna condizione, dice come avevamo promesso nel contratto, la prescrizione entrerà nell'ordinamento insieme a un numero di assunzioni per la giustizia che non ha precedenti. E poi l'intervento dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, superare limiti e sordità sociali dell'Europa. Ancora in queste settimane è venuto crescendo nell'opinione pubblica europea e internazionale l'allarme sulle condizioni e le prospettive del processo di integrazione del nostro continente. Un allarme, dice Napolitano, fortemente supportato da analisi e argomentazioni come quelle di un recente scritto di Fischer che per quello che presenta come anno di incognite e di rischio il cruciale anno 2019, purtroppo vero, sia che gli europei sono oggi divisi come non mai, sia che i valori della solidarietà e della comunanza europea sono stati in diversi paesi sopraffatti dal dilagare di nuovi sovranismi e nazionalismi, scrive ancora Napolitano. A centro pagina invece il Corriere riporta questa foto della famiglia Obama con Michelle, l'ex first lady, che si svela nell'autobiografia Malia e Sasha concepite in vitro. Persi un figlio a 20 anni, era sola e smarrita, Malia e Sasha concepite in vitro. Poi parla anche degli alti e bassi con il marito Obama e attacca Trump, un razzista, misogeno e stalker, non lo perdono, dice Michelle Obama. Lasciamo la prima del Corriere, ci spostiamo su Repubblica dove ritroviamo di taglio alto la sindaca di Roma Raggi con il PM che dice condannate Raggi a dieci mesi, 5 stelle, se colpevole si deve dimettere, oggi ci sarà la sentenza. Ma in apertura Repubblica propone la questione ai migranti, cresce il fronte del no, elettore 5 stelle. Ora con Salvini un sondaggio svela che il 52% degli italiani è per i respingimenti, solo il 40% vuole accogliere i profughi. Repubblica oggi intervista un altro esponente del Movimento 5 stelle, Riccardo Fraccaro. Nessuna delusione, la prescrizione è una nostra vittoria, dice il ministro 5 stelle, non comanda sempre la Lega. Per cambiare serve tempo, i dissidenti, le regole vanno rispettate. E poi sempre su Repubblica, al piano Bussetti, basterà la laurea, insegnanti addio al tirocinio, ma la scuola si ribella. E poi il Viminale taglia le scorte, troppe e inutili, via una su tre. Lasciamo anche la prima di Repubblica, ci spostiamo su Libero che apre con una foto molto forte con Rocco Casalino, il portavoce del Premier Conte. Se questo è un uomo, parafrasando il libro di Primo Levi, il portavoce del Premier, danno sui nervi anziani, down eppure i negri che aspettano a cacciarlo. Si chiede il quotidiano diretto da Vittorio Felte, sicuramente sarà una prima pagina che farà molto discutere. Poi al centro, ancora Bersani, tenta il suicidio, vuole lo Ius Soli, cooperative rosse e cattoliche disperate. Senza più profughi, non abbiamo lavoro né soldi. La sinistra è capace solo di andare indietro, scrive ancora Libero. Ci spostiamo ora su il Gazzettino, la prima pagina nazionale del quotidiano del Nord-Est. Crescita, frena il Nord-Est. L'indagine Padova-Treviso in calo esportazione e fiducia delle imprese. La produzione industriale resta comunque positiva a più 1,6%, ma rallenta. A centro pagina il maltempo con Di Maio che dice a Natale in vacanza in Veneto. Lo vedete in una foto, durante un sorvolo nella Gordino in elicottero con le foreste devastate dal maltempo. A proposito di Nord-Est, ancora gli aggiornamenti della banda del Ducale tradita da un anello decisivo per la cattura del gioiello indossato dal capo dei banditi, il furto tentato tre volte. Ricorderete il clamoroso furto di gioielli a Palazzo Ducale a Venezia, nei giorni scorsi sono stati arrestati e altri componenti della banda. Dalla prima del Gazzettino ci spostiamo su il giornale con la politica che ritorna in apertura. Scricchioline la Lega, 1 su 3, stufo di Di Maio, la base della carroccia insofferente ai diktat dei 5 stelle, raggi nei guai. Il PM chiede 10 mesi, Grillo la scarica. Torino reddito statale alla Roma milionaria. E poi ancora l'emergenza maltempo con Portofino sempre più isolata, cede una parte della piazzetta. L'allarme di Banca Italia invece, lo spread a 300 punti, ci è già costato 1,5 miliardi di euro. La nostra carrellata di prime pagine prosegue con il Fatto Quotidiano. Raggi, il PM chiede 10 mesi ma poi scivola sul movente. Oggi la sentenza, la sindaca accusata di falso Di Maio dice se condannata lasci il processo Lega. Sui 49 milioni si rischia la prescrizione, boss in attesa dell'appello, spera. E poi così la polizia italiana respinge i profughi afghani nei Balcani, le prove della catena internazionale tra Italia, Slovenia e Serbia. Lasciamo anche la prima del Fatto e andiamo sulla stampa di Torino. L'apertura del giornale, raggi in bilico, un guaio per i 5 stelle, la sfida delle donne ad Appendino, la sindaca di Torino. Invece anche la stampa propone come il Corriere un'immagine che cita l'autobiografia di Michelle Obama, la rivelazione di Michelle, le mie figlie concepite in vitro. Ci spostiamo ora sul manifesto con la foto, notizia a centro pagina, rischio capitale, queste le due parole scelte per l'apertura. La Procura di Roma chiede di condannare a dieci mesi la sindaca Virginia Raggi accusata di aver mentito sulla nomina di Renato Marra, la sentenza attesa per oggi Di Maio. Il nostro codice parla chiaro, in caso di condanna potrebbe calare il sipario sulla giunta pentastellata. Di Taglio Alto, invece, Lucano con il Popolo degli Zero, il sindaco di Riace sarà oggi in Piazza Roma contro il decreto Salvini. Chiudiamo con la prima pagina della Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. I disastri spaziali del cocco della sinistra, la cacciata di Battiston dall'Agenzia scandalizza le anime belle, ma la gestione del nipote di Prodi nel mirino dei revisori dell'Asi, della Corte dei Conti e pure della Procura, troppo costose, non tornano. Le nomine su misura ai decreti d'urgenza e stipendi pazzi, questo è il focus della verità. A centro pagina, invece, le foto che smentiscono la segretaria del capo di Confcommercio, baci sulla bocca al nemico di San Galli, una polemica che ha investito il presidente della Confcommercio nazionale San Galli, l'ex direttore generale Francesco Rivolta. A centro pagina, invece, torna Prodi e si mette alla testa dei migranti, non bastava il partito afro della Chienge, Mortadella presiede la tre giorni di Modena, dove i viaggi sui barconi sono un diritto e chi si oppone è un criminale. Le carte prepagate di Soros a chi arriva. Chiudiamo la nostra prima carrellata con le pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sui quotidiani locali, invece, per vedere cosa si racconta nella nostra regione. Partiamo dall'apertura del Messaggero Veneto con il maltempo, che provoca le prime polemiche sui fondi stanziati dal governo. La Serracchiani, l'ex presidente, esponente del PD, dice, insufficienti 53 milioni stanziati da Roma, una cifra imbarazzante. Novelli, deputato di Forza Italia, aggiunge, il governo inerme è superficiale. Nel frattempo la regione spera di aver accesso alla solidarietà europea. A proposito di maltempo, il messaggero propone la storia di Imran, il pastore pakistano, rimasto isolato per una settimana a Malga Tuglia, sopra Fornia Volte, per salvare le sue 20 mucche. Mentre la canna veniva devastata dal maltempo, il pastore, poco più che ventenne, doveva salvare il bestiame, perché questo è il suo lavoro, e perché, dice, aveva dato la parola al suo titolare. E così ha fatto l'immagine. Lo vedete, la strada di accesso a Malga Tuglia. Le altre notizie, sulla prima del messaggero Veneto, eredità di 599 mila euro per i cani e gli animalisti, un'ex bancaria di Osoppo. E poi la cronaca con l'artigiano di Codroipo, che è morto in uno scontro frontale a Valvasone. A Premariacco, il giallo dei Boati, forse l'aria che esce dalle grotte. Sono arrivati i tecnici del centro sismologico per studiare la misteriosa onda sonora, di cui vi abbiamo parlato nei prossimi giorni. I risultati si avranno lunedì, ci ha anticipato il sindaco Trentin. E poi ancora Tapogliano, una capsula del tempo nella cipolla del campanile. Andiamo all'interno per approfondire alcuni dei temi che abbiamo visto in prima pagina sul messaggero Veneto, con le polemiche sul maltempo. La stima completa dei danni in dieci giorni, ha detto ieri il vicepresidente Riccardi. La cabina di regia regionale per il post alluvione e i primi stanziamenti del governo non dovrebbero superare i 6,5 milioni di euro. Nuovi finanziamenti per aprire una serie di cantieri lavoro, nel frattempo nei territori più colpiti. Questo ha deliberato ieri la giunta su proposta dell'assessore Rosolene. Ma vedevamo le polemiche con il PD e Forza Italia che sferzano il governo. Risorse imbarazzanti. Seracchiani dice che le cifre stanziate sono insufficienti e novelli che il governo è inerme e superficiale. Il deputato Azzurro si rivolge alla Lega. Confido riesca a difendere le legittime aspettative del nostro territorio. A proposito di maltempo, mentre passano i giorni dopo l'ondata che ha devastato la nostra regione, si scoprono altre storie negative come quelle legate ai pescatori. Sono sparite le vongole e le esche. I pescatori in una strage, conto di decine di migliaia di euro per 12 imprese del settore, attività sospesa. Vedete questa immagine che rappresenta la spiaggia della Laguna Friulana. Vermi utilizzati come esche dai pescatori sportivi spiaggiati dopo le mareggiate e l'ondata del maltempo. Tra le imprese di Lignano, Marano e Grado è allerta. L'appello alla regione affinché intervenga per il riconoscimento dello stato di calamità e con contributi in aiuto alle aziende. La storia del pastore che avevamo visto in prima pagina si trovava a Tuglia sopra Forni a Volte durante la tempesta. Ero spaventato ma dovevo rispettare la parola data al mio titolare. Isolato una settimana in Malga con 20 mucche. La storia di Imran, il pastore pakistano. Lo vedete in queste immagini. E questa è una istantanea della Malga che si trova sulle montagne di Forni a Voltri. La notizia è stata data dall'ex sindaco di Rigolato Fabio D'Andrea che per primo si è assicurato che Imran stesse bene. Andiamo avanti con le altre notizie del messaggero Veneto. Parliamo dell'inchiesta sui prosciutti DOP. E' stato chiesto il processo per 24.8 sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio coinvolti anche 10 enti e società. Questo l'esito dell'inchiesta. In udienza preliminare il giudice deciderà se archiviare o rinviare a giudizio le posizioni, le ipotesi accusatorie che siano stati usati suini non conformi al disciplinare. Altre notizie legate all'economia friulana, notizie positive in questo caso per la nuova maxicommessa per il gruppo Daniele negli Stati Uniti. L'azienda friulana realizzerà acciaio per Nucor. Sarà un impianto high-tech ad elevata produttività. L'investimento del colosso americano di 600 milioni di dollari di cui 200 andranno alla società di Butrio. Andiamo ora ad aprire le pagine dedicate alla città di Udine con la spesa record per i servizi sociali. 26 milioni in tre anni i beneficiari cresciuti del 20%. Viene aiutato un residente ogni 15, l'assessore Barillari. Dati preoccupanti, mancano dai 6 ai 9 assistenti. Questo è il quadro delle cifre, i servizi sociali nel territorio dell'Uti della Friuli Centrale. A tal proposito vi proponiamo il servizio che ha realizzato la nostra Valentina Beale. 9.400 utenti per una spesa di circa 26 milioni di euro. A questo ammonta il carico di lavoro dei servizi sociali dell'Uti Friuli Centrale che oltre a Udine supporta altri 8 comuni dell'Interland. Un lavoro silenzioso, paziente ma molto gravoso visto che l'organico è ancora troppo esiguo per far fronte alle esigenze in continua crescita della popolazione. Minori, anziani, persone in difficoltà economica, disabili. Le voci di spesa sono in continuo aumento. In tutto questo c'è da tenere in considerazione anche la variabile stranieri. Ad accedere ai vari servizi a Udine il 27% del totale proviene da un altro paese. A livello regionale, insieme al Pordinonese, siamo coloro che hanno la maggior parte di utenza straniera. Con tutta la complessità del vissuto, di una cultura diversa, di una rete familiare che non c'è. Complessivamente abbiamo avuto un assistito ogni 17 abitanti. In particolar modo il nostro territorio a livello regionale è quello che ha la maggiore incidenza di adulti. L'aumento dei bisogni sociali attraversa tutte le categorie prese in considerazione dai servizi. Una fetta importante riguarda i minori. 110 sono quelli in comunità. Il servizio educativo che affianca bambini e studenti ha quasi raddoppiato i suoi utenti. È il territorio che ha il più alto tasso di minori istituzionalizzati per motivi correlati a maltrattamento e abuso. Tant'è che proprio in accordo anche con la regione all'inizio dell'anno siamo partiti con un progetto che si chiama Progetto Pippi che è finanziato, sponsorizzato e avvallato dal Ministero delle Politiche Sociali. Ma in questo contesto i comuni sono passati da una spesa per minori in comunità nel 2015 di un milione e sei a due milioni e mezzo nell'arco di due anni. Crescono anche le esigenze di assistenza domiciliare, contributi economici, sostegno al reddito. Sono state vase però tutte le domande e l'assistenza ai disabili. Per far fronte a tutto questo però le risorse umane sono ancora troppo poche. Questi servizi sono stati erogati con una media di un assistente sociale ogni 3.500 abitanti. La regione ha stabilito come standard un ogni 3.000 abitanti. Torniamo sul quotidiano con altre notizie come l'allarme dei sindaci dell'Interland udinese con l'addio all'Uti. Un Interland che viene penalizzato, dicono i primi cittadini di Tavagnacco, Campoformino, Pozzuolo e Pradamano che protestano, sprecata un'opportunità. Se Udine vuole essere capitale non può chiudere il dialogo, dicono i sindaci. A proposito di Udine, continuano le polemiche sulle frasi dell'assessore Ciani, l'assessore alla sicurezza, dopo la chiusura della scalinata di via a Cernaia, giunte con i delinquenti. Ciani si scusa dagli ex quere la richiesta di dimissione. I componenti dell'esecutivo Onsel sono decisi a difendere la loro onorabilità dopo la pubblicazione del post. Un post che poi è stato rimosso e corretto. Martinez dice spero che Fontanini saprà reagire a questa ingiuria istituzionale. Bertossi di Prima Udine è responsabile della comunicazione e comunque il sindaco. Continuiamo con le pagine interne del messaggero. Ci sono le novità per Udine Idea. In prima linea per rilanciare il centro dalla tessera con l'omaggio per un'ora di parca, le promozioni, l'incontro con il Comune Confcommercio per nuove soluzioni. A proposito di commercio, da ieri c'è lo shopping day fino a domenica in città e allora andiamo a sentire che umore c'è tra i cittadini udinesi proprio per questa opportunità al servizio di Monica Nardini. Cosa ne pensa di questi shopping days? Eh beh, ci sono sconti per cui vanno sempre bene. Ha già acquistato qualcosa? Pensa di approfittare di queste giornate? Senz'altro, senz'altro. Certo, certo. Ha già in mente qualche prodotto? Io dovrei guardare, guardo e poi deciderò cosa prendere. Siamo appena arrivati quindi devo ancora vedere. La domenica c'è te? Sì, sì. Un'iniziativa come questa quanto può contribuire a rivitalizzare il centro? Si tende a sempre andare nei centri commerciali quindi fare queste cose penso che aiutino molto. Dove essere interessante se fosse abbinata a qualche altra iniziativa tipo folcloristica oppure qualcosa di musica o roba del genere magari questo potrebbe attirare di più. E come sta andando? Beh, diciamo che sta andando per ora abbastanza bene la risposta è buona in questo periodo che le temperature sono abbastanza insolite ecco che un'operazione di promozione vedi appunto shopping day aiuta ad incentivare la visita della clientela. È importantissima anche questa fase finale dell'anno? Sì, direi di sì il periodo più importante appunto è appunto l'autunno autunno-inverno quindi da adesso fino all'inizio dei saldi compreso il Natale. Una media degli sconti indicativa? Più o meno dal 20 che può arrivare fino a un 50% in linea più o meno con gli altri nostri competitor. Andiamo in provincia ora torniamo sul caso sul giallo di Premariacco i boati misteriosi provocati dall'aria che esce dalle grotte potrebbe essere questa una prima risposta ieri sopra luoghi degli esperti dell'Istituto Nazionale di Oceanografia di Trieste intanto il tremore è sparito forse era causato da un fenomeno legato al carsismo del Natisone la cronaca invece con l'incidente stradale mortale avvenuto ieri a Valvasone un abbotto frontale dopo il ponte della Delizia è morto un pittore di Ledi Codroipo è di Monti aveva 68 anni lo schianto è accaduto ieri mattina a Valvasone l'uomo non ha avuto scampo ha perso il controllo dell'auto forse a causa di un malore la sua Galaxy è finita contro un SUV condotto da una 39enne anni fa perse due figli in un incidente stradale purtroppo ancora un dramma per la famiglia Monti che risiedeva a Codroipo lasciamo il messaggero Veneto e ci spostiamo sul gazzettino con la prima pagina dedicata al Friuli e l'apertura è su Prosciuttopoli così è stata ribattezzata l'inchiesta sul prosciutto di San Daniele 24 verso il giudizio è la prima parte dell'inchiesta sulla contraffazione dei prosciutti di San Daniele le richieste sono della procura coinvolte allevatori imprenditori impiegati del macello e certificatori a otto contestata l'associazione per delinquere centropagina poi il maltempo il giallo dell'orso Francesco anche l'orso ha fatto i conti con il maltempo sta bene dicono gli esperti ma dopo il fortunale ha attraversato ben cinque volte il tagliamento gonfio d'acqua e poi lo scontro frontale morto a 68 anni l'anziano era originario di Camino ma viveva a Codroipo lutto in paese le altre notizie che troviamo sul gazzettino a Friuli Venezia Giulia ha bacchettato manca una riforma sociale la bacchettata arriva dal viceministro per la famiglia e la disabilità Vincenzo Zoccano che ieri era ospite a Udine di un convegno e poi i medici allucinante gestire un ente con otto ospedali si parla della riforma della sanità regionale un'anticipazione anche sullo sport che andremo a trattare tra poco festeggia Lasagna che ha ricevuto una nuova chiamata in nazionale ieri la decisione della CT Mancini per le sfide tra Italia e Portogallo del 17 novembre a Milano e poi anche per la successiva amichevole la convocazione di Kevin Lasagna andiamo all'interno per approfondire soprattutto la storia dell'orso Francesco che in curiosisce guarda il fiume in piena cinque volte il giallo dell'orso Francesco in carne subito dopo l'alluvione ha attraversato il tagliamento sta bene dicono gli esperti lo monitoriamo stiamo cercando di capire il perché abbia attraversato appunto il fiume tutte queste volte e poi l'inchiesta sui prosciutti con la procura di Porrenone che continua ad andare avanti chiesti 24 rinvii a giudizio arriva in udienza preliminare la prima tranche dell'inchiesta a otto indagati contestata l'associazione per delinquere difese pronte ad affrontare il processo ma i costi sono alti per le sole copie degli atti di indagine sborsati 3.700 euro facciamo anche il gazzettino andiamo ad approfondire le notizie legate all'isontino con il dorso del messaggero di Gorizia in Monfalcone l'apertura cittadina è dedicata alla rivoluzione del comune per la pianta organica cambiamenti fra dirigenti e 19 assunzioni macro struttura modificata dopo il pensionamento di Clara Sgubin potenziati gli uffici amministrativi e i cantieri stradali la cronaca in rianimazione a Udine la donna travolta da una SUV è la moglie dell'ex consigliere comunale Bozidara Tabai e poi traumatizzata in coma farmacologico sequestrata la BMW X5 prova dell'alcol test negativa a questo l'aggiornamento sul fatto di cronaca accaduto appunto in via San Michele a Sant'Andrea di fronte alla farmacia comunale dalla dorso del messaggero di Gorizia ci spostiamo su quello dedicato a Pordenone città per vedere anche quali sono le notizie legate alla città del noncello questa è l'apertura niente cibi e bevande vicino allo stadio Pordenone Tristina stoppa il commercio il derby di lunedì porta alcune ripercussioni in città all'interno del bottecchia si potrà comunque mangiare e bere in arrivo 400 ultras da Trieste finiti i lavori per dividere le tifoserie vedete anche proprio l'immagine la zona in cui sono stati eseguiti i lavori per dividere le due tifoserie di Triestina e Pordenone che si confronteranno lunedì sera nel derby del girone B di serie C questi anche gli altri interventi per garantire la sicurezza in vista della sfida andiamo a chiudere con le aperture del piccolo il quotidiano di Trieste partiamo dall'apertura del dorso del capoloco regionale la comunità sotto sciocca minata la convivenza serbi croati romeni in coro la giunta di piazza colpisce più piccoli e si fa beffa dell'integrazione il sindaco ma che razzismo solo regole assessore leghista da della negra a una mamma le polemiche dopo la decisione della giunta di piazza di fissare un tetto antistranieri negli asili di Trieste così come è successo a Monfalcone e poi a centropagina morte in casa Mugia Marianna Pepe ex nazionale di tiro a segno giallo sulle cause Triestina di 39 anni ex campionessa di tiro a segno con la carabina quando i soccorsi sono giunti sul posto la donna era ormai priva di vita per nulla chiare le circostanze del decesso e sono in corso le indagini a grado invece diga rischio cedimenti ogni mareggiata è un'incognita a lanciare l'allarme nell'opposizione gradese e con la prima pagina del piccolo ci fermiamo tra poco ritorniamo assieme per la seconda parte della nostra rassegna dedicata allo sport tra poco di tiro a segno